Allora io volevo abolire la pubblicità dei soliti manifesti di preservativi, di acqua minerali, di cose eccetera eccetera e fare dei grandi poster, grandi e enormi, di tutti gli artisti del mondo in modo che al posto di mettere l'esaltazione di un programmatico ci sia l'esaltazione di un maestro in modo che poi dopo, come vedete qua, uscendo dalla fabbrica, gli operai vengono in questa strada e si siedono in questa macchina e dicono, guarda che bel De Chirio, guarda che carali così del 1800 e allora si fa la cultura perché a domenica possono andare in giro, si fermano e dicono, questo Ricketts guarda che bello che è, oppure ora con il carale del 18 De Chirio, qui sono Ligliani, qui c'è Moraglio e qui sono Randi Allora con queste città che sono pavessate da grandi manifesti, c'è scritto qui quadro del Ricketts offerto dalla Pirelli, pubblicitariamente io raggiungo, anzi raggiungo un doppio scopo di parlare della Pirelli e di dire grazie a Pirelli che mi hai fatto conoscere un'opera d'arte, questo è un po' il mio concetto, si capisce, strade lunghe e qui ci vorranno seccoli anni per capire queste cose qua